la finanza in soldoni è un podcast di massimo famulano che cosa c'entra un episodio sul giorno della memoria in un podcast intitolato la finanza in soldoni con un pizzico di rettorica si potrebbe dire che prima che agenti economici siamo esseri umani ma non credo sia questo il punto il punto è che non solo gli errori ma anche e soprattutto gli orrori del passato sono destinati a ripetersi se non abbiamo la capacità di imparare la lezione della storia non esiste un vaccino perenne che possa metterci a riparo per sempre da atrocità come quelle messe in pratica dalla follia nazifascista quello che esiste ed è possibile e necessario è la nostra determinazione nel ripetere ogni anno il racconto di quei drammatici eventi perché possa fungere da monito per le nuove generazioni il 27 gennaio il giorno della memoria in inglese international holocaust remembrance day ricordiamo tutti insieme quindi quando il 27 gennaio del 1945 l'almata rossa liberò il campo di concentramento di auschwitz birkenau in tanti hanno scritto sulla eccezionalità dell'olocausto e sulle caratteristiche che lo distinguono dalle purtroppo numerose altre pagine oscure della storia e non è questa la sede per approfondire questo passaggio preferisco sottolineare come la shoah sia una tragedia tanto vicina al nostro mondo e per questo la sua minaccia sia tanto pericolosa la storia dell'uomo è stata sempre caratterizzata da persecuzioni barbarie ingiustizie perpetrate ai danni di intere popolazioni ma l'olocausto è avvenuto in un'europa moderna recente per molti versi civile e dunque molto troppo simile a quella in cui abitiamo oggi non è stato il deririo di un singolo mostro a determinare lo sterminio di tante vite innocenti ma un processo storico complesso che include tanti piccoli attori tanti piccoli complici che hanno contribuito al funzionamento di questo incredibile meccanismo di morte per questo motivo credo si debba concentrarsi anche sulle piccole cose come un post sui social o questo breve messaggio audio perché la strada verso la grande eroina è più breve di quanto non possiamo immaginare e non possiamo permetterci neanche per distrazione di compiere il più piccolo passo su quel percorso di morte gli ebrei sono stati spesso accusati di praticare l'usura e di accumulare somme favolose ai danni dei cristiani queste narrazioni infami e pericolose hanno potuto diffondersi anche grazie all'ignoranza e alla incapacità di comprendere come la ricchezza e la prosperità delle nazioni dipenda dalla libertà delle persone di circolare e compiere scambi mi piace pensare che il modesto contributo formativo ed educativo della finanza in soldoni possa anche se in minima parte contribuire alla diffusione di una cultura dell'accoglienza e della libertà che è la prima linea di difesa che abbiamo contro il ripetersi degli orrori ricordiamo allora il 27 gennaio del 45 quando il campo di concentramento di auschwitz è stato liberato e facciamo in modo che il 27 gennaio del 2021 il ricordo dell'olocausto sia ancora vivo e forte per evitare che orrori di questo genere possano ripetersi la finanza in soldoni è un progetto multicanale che oltre a questo podcast include un libro acquistabile in formato ebook e cartaceo su amazon una playlist sul mio canale youtube e una sezione del blog massimofamularo.com se vi piacciono i contenuti lasciate un like una recensione o condividetevi sui vostri canali social grazie anticipate e a presto